avete da sapere che nella cina l'imperatore è cinese e che non son cinesi tutti quelli che gli stanno d'attorno ciò che vi racconterò è avvenuto molti anni or sono ma appunto per questo la storia merita d'essere sentita prima che se ne perda del tutto la memoria il palazzo dell'imperatore era il più splendido palazzo del mondo era fatto tutto di porcellana preziosissima ma così delicata così fragile che bisognava badar bene a quel che si faceva anche soltanto nell'accostarvisi il giardino era pieno di magnifici fiori e ai più preziosi il giardiniere aveva attaccato certi campanellini d'argento per modo che nessuno potesse passare senza osservarli sì nel giardino dell'imperatore tutto era mirabilmente combinato ed era un giardino immenso nemmeno il giardiniere sapeva dove terminasse cammina 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 si arrivava ad una splendida foresta con alberi alti e limpidi laghi e la foresta si stendeva avanti avanti sino al mare azzurro e profondo sì che i bastimenti costeggiando potevano passare sotto i rami dei grandi alberi che si sporgevano sull'acqua tra quegli alberi viveva un usignuolo il quale cantava così meravigliosamente che persino il povero pescatore con tante altre cose che aveva per il capo quando usciva la notte a gettare le reti non poteva fare a meno di fermarsi immobile ad ascoltarlo che bellezza esclamava ma poi gli toccava badare ai fatti suoi e l'uccellino gli usciva di mente eppure quando la notte dopo tornava a cantare il pescatore si fermava di nuovo ad ascoltare e di nuovo ripeteva che bellezza da tutti i paesi del mondo capitavano forestieri a visitare la città dell'imperatore e l'ammiravano e ammiravano il palazzo ed il giardino ma quando udivano l'usignuolo dicevano ah come questo non c'è niente al mondo e i viaggiatori ne parlavano quando tornavano alle loro case e i più dotti scrissero anche molti libri sulla città sul palazzo e sul giardino né l'usignuolo fu dimenticato ebbe anzi il primo posto fra tante meraviglie e quelli che sapevano scrivere in poesia scrisserò di bellissime sul lusignuolo della foresta in riva al lago profondo i libri andarono per il mondo e due o tre giunsero sino all'imperatore seduto sulla sua poltrona d'oro l'imperatore leggeva e leggeva ed ogni tanto assentiva col capo per il compiacimento di trovare le magistrali descrizioni della città del palazzo e del giardino ma l'usignuolo è il più bello di tutto stava scritto proprio così che a fare questo esclamò l'imperatore io non ho mai veduto usignoli io non so che ci sia un tale uccello nel mio impero e tantomeno nel mio giardino non ne ho mai neppur sentito parlare pensare che debba prenderlo per la prima volta dai libri e chiamò il suo cavaliere d'onore questo cavaliere era così compito che quando alcuno inferiore di lui di grado osava rivolgergli la parola o fargli qualche domanda non rispondeva altro che p che è come dire niente del tutto è scritto qui che c'è un uccello meraviglioso chiamato usignolo disse l'imperatore e pare sia niente di meno che la miglior cosa di tutto il mio impero domando e dico perché non ne ho mai sentito parlare non ho mai sentito questo nome rispose il cavaliere certo non fu mai presentato a corte comando che abbia a venire questa sera e che canti alla mia presenza disse l'imperatore che tutto il mondo abbia da sapere quel che posseggo e che non abbia da saperlo io non l'ho mai sentito nominare disse il cavaliere ma lo cercherò lo cercherò e lo troverò trovarlo sì ma dove il cavaliere corse su e giù per tutti gli scaloni per tutte le scale e gli anditi e i corridoi ma nessuno tra quanti incontrava aveva mai udito parlare dell'usignolo il cavaliere tornò di corsa dall'imperatore e gli disse che doveva essere una favola inventata dagli scrittori di libri la vostra imperiale maestà non può credere quanta parte di quello che si scrive sia pure immaginazione senza contare la poesia che è detta arte nera ma il libro nel quale io l'ho letto disse l'imperatore mi fu mandato dall'alto e possente imperatore del giappone e perciò non può mentire io voglio sentire l'usignolo deve venire qui questa sera stessa egli ha il mio imperiale gradimento e se non viene dopo che la corte avrà cenato tutta la corte sarà pestata sotto i piedi zimpè disse il cavaliere e di nuovo corse su e giù per gli scaloni e per tutte le sale e i corridoi e metà della corte correva con lui perché ai cortigiani poco garbava ad essere pestati sotto i piedi poi fu fatta una grande inchiesta per riscoprire quest'usignolo che tutti conoscevano all'infuori della corte finalmente in cucina trovarono una povera ragazzetta la quale disse usignolo altro se lo conosco sì canta tanto bene ogni sera mi è data licenza di portare alla mia mamma malata gli avanzi della tavola la mia mamma abita vicino alla spiaggia del mare e quando nel ritorno mi sento stanca mi riposo nel bosco e allora ascolto il canto del lusignolo e gli occhi mi s'inumidiscono ed è come se la mamma mi desse un bacio ragazza mia disse il cavaliere io ti farò avere un posto nella cucina imperiale con licenza di vedere l'imperatore mentre mangia se ci sai condurre immediatamente da quest'usignolo perché il concerto è annunciato per questa sera stessa e così tutti si incamminarono verso il bosco dove l'usignolo soleva cantare metà della corte addirittura seguiva la ragazzetta e il cavaliere d'onore a mezza strada sentirono mugire una mucca oh gridarono i paggi di corte eccolo finalmente e spiega una potenza meravigliosa davvero in si piccolo animale certo dobbiamo averlo sentito già un'altra volta no quella è una mucca che muggisce disse la piccola sguattera abbiamo ancora un buon tratto di strada da fare poi le rane nel fosso cominciarono a gracidare magnifico esclamò il predicatore della corte cinese ora che lo sento somiglia a un campanellino di chiesa ah no quelle son rane disse la ragazzina ma ben presto lo sentiremo di lì a poco infatti l'usignolo cominciò a cantare eccolo esclamò la ragazzina sentite sentite è laggiù e additò un uccellino grigio in un cespuglio ma possibile gridò il cavaliere non avrei mai creduto che avesse quell'aspetto lì com'è meschino di certo che avrà mutato colore vedendosi attorno tanti personaggi di riguardo mio piccolo usignolo disse forte la servetta il nostro imperatore desidera che tu canti davanti a lui col maggior piacere rispose l'usignolo e cominciò a cantare deliziosamente sembran tanti campanellini di cristallo disse il cavaliere e guardate la piccola gola come lavora è strano che non l'abbiamo mai sentito prima l'uccelletto avrà un vero successo a corte debbo cantare ancora per l'imperatore domandò l'usignolo perché credeva che l'imperatore fosse presente mio eccellente usignoletto disse il cavaliere ho l'onore di invitarti per questa sera alla corte dove affascinerai sua maestà l'imperatore con la dolcezza del tuo canto le mie canzoni suonano meglio tra il verde della foresta osservò l'usignolo ma si arrese volentieri quando udì che tale era il desiderio dell'imperatore il palazzo era addobbato a festa le pareti e i pavimenti tutti di porcellana scintillavano alla luce di migliaia e migliaia di lampade d'oro i fiori più rari quelli che avevano i campanellini più squillanti adornavano i vestiboli c'era un continuo andirivieni e continui a correnti d'aria e i campanellini suonavano tanto forte che non si sentiva la propria voce nel mezzo della sala grande dove sedeva l'imperatore avevano posta una gruccia d'oro e su quella doveva stare l'usignolo tutta la corte era presente e la piccola sguattera aveva avuto licenza di appostarsi dietro la porta perché l'era stato conferito il titolo di cuoca effettiva di corte tutti vestivano l'alta uniforme e tutti guardavano l'uccellino grigio che l'imperatore aveva salutato con un cenno del capo e l'usignolo cantò così meravigliosamente bene che all'imperatore le lacrime vennero agli occhi e poi scesero giù giù per le gote e allora l'usignolo cantò ancora meglio con tanta dolcezza che il canto andava proprio al cuore l'imperatore rimase così soddisfatto che voleva conferire all'usignolo le sue pantofole d'oro perché le portasse al collo ma l'usignolo pur ringraziando non volle accettare dicendo di essere già compensato abbastanza ho veduto due lacrime negli occhi dell'imperatore questo val più di qualunque tesoro le lacrime di un imperatore hanno una speciale potenza io sono più che compensato e cantò di nuovo con la sua stupenda voce dolcissima ecco la più garbata civetteria che si sia mai veduta dissero le dame che stavano sedute all'intorno e provarono a tenere un po' d'acqua in bocca per farla gorgogliare appena qualcuno rivolgesse loro la parola pensavano con ciò di poter diventare tanti usignoli e i lacchei e le cameriere si dichiararono anch'essi soddisfatti ed è tutto dire perché sono i più difficili di contentatura insomma l'usignolo ottenne il più completo trionfo ed ora doveva rimanere alla corte doveva avere la sua gabbia con libertà d'uscire due volte al giorno ed una alla notte quando l'usignolo usciva dodici valletti formavano la sua scorta e ciascuno teneva un filo di seta legato alle zampe dell'uccellino e doveva tenerlo bene stretto chi avrebbe potuto trovare gusto a si fatte escursioni in tutta la città non si faceva che parlare dell'uccello meraviglioso quando i due si incontravano l'uno diceva usigne l'altro vuolo e poi tutti e due sospiravano e si intendevano senza dire di più a undici bambini di pizzicagno li venne imposto il nome dell'uccelletto eppure nessuno di essi seppe mai cantare una nota un giorno l'imperatore ricevette un grosso pacco sul quale stava scritto usignolo sarà un altro libro sul cerebre uccello pensò l'imperatore ma non era un libro era una piccola opera d'arte invece racchiusa in una scatola un usignolo meccanico che cantava come il vero ed era tutto tempestato di brillanti di zafferi e di rubini appena lo si caricava cantava una delle arie dell'usignolo vivo e poi muoveva la coda e l'oro e l'argento scintillavano intorno al collo aveva un nastrino con questa scritta usignolo dell'imperatore del giappone è povera cosa a paragone di quello dell'imperatore della cina ah magnifica dissero tutti e subito a colui che aveva portato l'uccello meccanico fu conferito il titolo di primo fornitore di usignoli della corte imperiale bisogna che cantino insieme che duetto ha da essere esclamarono i cortigiani e insieme cantarono ma non andavano tanto bene perché l'usignolo vero cantava a modo suo e quello artificiale obbediva al cilindro dentato che aveva dentro non è colpa sua disse il maestro della cappella imperiale va perfettamente in tempo e quanto alla tecnica è proprio della mia scuola l'uccello meccanico dovette allora cantare da solo riportò un trionfo uguale a quello che aveva avuto il vero ed era poi molto più bello a vedere scintillava come i braccialetti e gli spilli gemmati trentatré volte cantò lo stesso pezzo senza mai stancarsi la gente l'avrebbe riudito volentieri un'altra volta ancora ma l'imperatore disse che ora doveva cantare l'usignolo vivo sì ma dov'era andato nessuno aveva osservato che era volato via dalla finestra aperta per tornare al verde del suo bosco che ne è avvenuto? domandò l'imperatore tutti i cortigiani dissero un mondo di male dell'usignolo tacciandolo della più nera ingratitudine dopo tutto dei due ci rimane il migliore dissero e così l'uccello meccanico dovette cantare di nuovo era la trentaquattresima volta che ascoltavano la stessa canzone ma non la sapevano ancora bene a memoria perché era molto difficile il maestro di cappella lo lodò in particolar modo affermava che era migliore dell'usignolo vivo non solo per l'aspetto esteriore e per tutti quei magnifici brillanti ma anche per il meccanismo interno perché vedete signore e signori vedete soprattutto sacra maestà con un vero usignolo non si può mai calcolare quello che venga dopo ma in questo artificiale tutto è preveduto si può spiegarselo si può aprirlo e far vedere alla gente come è fatto dove sia il cilindro come giri e come una nota chiami l'altra per l'appunto quel che volevamo dire noi asserirono tutti e il maestro di cappella ebbe il permesso di mostrare l'uccello al popolo la domenica seguente anche il popolo aveva da sentirlo cantare così comandava l'imperatore e lo sentirono e rimasero così soddisfatti come se si fossero ubriacati tutti di te perché questa è proprio la passione dei cinesi e tutti fecero e tecero l'indice e accennarono col capo ma il povero pescatore che aveva udito l'usignolo vero disse canta bene abbastanza e la canzone somiglia ma ci manca qualche cosa non so dir che ma qualche cosa ci manca l'usignolo vero fu bandito dalla città e dall'impero quello meccanico intanto aveva preso il suo posto su di un cuscino di seta accanto al letto dell'imperatore tutti i doni d'oro e di pietre preziose che aveva ricevuto erano schierati intorno ad esso quanto a titolo era giunto a quello di grande cantore imperiale della siesta e quanto a grado al numero uno della mano manca perché l'imperatore dava maggiore importanza a quella parte dove sta il cuore e anche negli imperatori il cuore è un po' verso sinistra il maestro di cappella scrisse un'opera di 25 volumi sull'usignolo meccanico opera molto dotta e molto diffusa zeppa delle più difficili parole cinesi ma tutti del popolo affermavano di averla letta e compresa per paura ad essere giudicati stupidi ed avere i corpi calpestati così passò tutto l'anno l'imperatore da corte e tutti gli altri cinesi sapevano a memoria ogni più lieve gorgheggio nella canzone dell'uccello meccanico ma appunto per questo piaceva loro ancora di più perché potevano accompagnarla cantando essi pure e così facevano infatti i monelli per le vie cantavano e l'imperatore stesso faceva altrettanto era proprio bellissimo ma una sera mentre l'uccello meccanico cantava del suo meglio e l'imperatore disteso a letto lo stava ad ascoltare qualche cosa dentro dell'usignolo fece si di uno schianto tutte le ruote girarono a un tempo e la musica si arrestò bruscamente l'imperatore balzò dal letto e fece chiamare il suo medico particolare ma che poteva farci il medico allora fu mandato in cerca ad un orologiaio e dopo molte parole e molti esami l'uccellino fu posto sotto una specie di cura ma l'orologiaio disse che bisognava trattarlo con molti riguardi perché le lamine erano logore e sarebbe stato impossibile sostituirle con lamine nuove in modo che la musica suonasse ugualmente il lamento fu generale solo una volta l'anno fu concesso che l'usignolo cantasse ed anche questo era forse già troppo il maestro di cappella fece però un discorsetto per dimostrare che tutto andava bene come prima e così naturalmente tutto andò bene come prima passarono cinque anni ed un vero dolore venne a colpire l'intera nazione i cinesi volevano in fondo un gran bene al loro imperatore ed ora egli era gravemente malato e a quanto si diceva poco ancora poteva durare già era designato un nuovo imperatore e la gente si affollava nelle vie e domandava al cavaliere le nuove dell'imperatore malato rispondeva a questi e scrollava il capo freddo e pallido giaceva l'imperatore nel suo letto grande e sfarzoso tutta la corte lo credeva già morto e tutti si affrettavano a prestare omaggio al nuovo sovrano i ciambellani erano corsi fuori per discorrerne a loro agio e le anzelle saranno tutte riunite a prendere il caffè e a fare due chiacchiere dappertutto nei vestiboli nei corridoi erano stessi grossi tappeti perché non si avesse a sentire il rumore dei passi e perciò tutto era quiete e silenzio nella reggia ma l'imperatore non era morto ancora rigido pallido stava disteso sul magnifico letto dalle lunghe cortine di velluto dalle pesanti nappe dorate e la luna che entrava dalla finestra aperta batteva sul volto dell'imperatore e sull'uccello meccanico un povero imperatore poteva amare a pena respirare gli pareva di avere un grande peso sul petto ha perso gli occhi e vide che era la morte che stava appunto seduta sul suo petto e sarà posta in capo la sua corona d'oro e teneva in una mano la spada dell'impero nell'altra una bellissima bandiera tutto intorno tra le pieghe delle ricche cortine di velluto si affacciavano strane figure due o tre molto brutte davvero le altre bellissime e miti erano tutte le azioni buone e cattive le quali gli stavano dinanzi ora che la morte gli gravava sul cuore ti ricordi questo? sussurravano l'una dopo l'altra e quest'altro? te lo ricordi? e fra tutte gliene dicevano tante che il sudore gli gocciolava dalla fronte questo non lo sapevo diceva l'imperatore musica musica presto il gran tantan cinese gridava che io non senta più tutto quello che dicono e quelle continuavano a parlare e la morte a far di sì col capo a tutto quel che dicevano come un bonzo di sopra il caminetto musica musica gridava l'imperatore a te prezioso uccellino d'oro canta canta t'ho fatto tanti regali t'ho dato oro e pietre preziose ti ho persino appesa il collo la mia pantofola d'oro canta ora canta l'uccello stava muto non c'era alcuno che lo caricasse e da solo non sapeva cantare la morte continuava a fissare l'imperatore con le larghe occhiaie vuote e tutto era silenzio silenzio terribile a un tratto dalla finestra aperta giunse un canto soave era l'usignolo vivo che stava fuori sopra un ramo aveva sentito i patimenti dell'imperatore ed era venuto a cantargli un inno di conforto e di speranza e mentre cantava gli spettri andavano sempre più impallidendo il sangue correva sempre più e più rapido nelle deboli membra dell'imperatore persino la morte ascoltava e di tratto in tratto le sfuggiva detto ancora ancora mio piccolo usignolo ma che cosa mi darai se canto ancora mi darai quella magnifica spada d'oro mi darai quella ricca bandiera mi darai la corona dell'imperatore e per ogni nuova canzone la morte cedette ad uno ad uno i suoi tesori l'usignolo cantava cantava diceva del tranquillo cimitero dove le bianche rose fioriscono dove suavi i lillà odorano sopra le tombe e dove irrorano le fresche zolle tutte le lacrime di chi rimane allora la morte provò un irresistibile desiderio di rivedere il suo giardino e volò via per la finestra sotto forma di una fredda candida nebbia grazie grazie disse l'imperatore ben ti riconosco celeste uccelletto ti ho bandito dalla città e dall'impero eppure tu hai scacciato dal mio letto gli spettri del male ed hai bandito la morte dal mio cuore come potrò mai ricompensarti ho già avuto la mia ricompensa dispose l'usignolo ho veduto le lacrime nei tuoi occhi la prima volta che ho cantato alla tua presenza non potrò mai dimenticarle ecco i gioielli che rallegrano il cuore del cantore ma ora dormi se vuoi tornare forte e tranquillo ti canterò qualche altra cosa e cantò e l'imperatore cadde in un dolce sopore ah com'era il suo ave ristoro il sonno il sole entrava dalla finestra fin sul letto quando si destò riposato e guarito nessuno dei suoi valletti era tornato ancora perché tutti lo credevano morto l'usignolo soltanto gli stava vicino e cantava devi sempre rimanere con me disse l'imperatore canterai come ti piace e io farò a pezzi l'uccello meccanico no davvero rispose l'usignolo esso ha fatto del suo meglio sinché ha potuto conservalo come solevi sino ad ora io non posso fare il mio nido nel palazzo per viverci sempre lascia che ci venga quando ne sento il desiderio allora la sera mi poserò sul ramo accanto alla tua finestra e ti canterò qualche cosa che ti farà lieto e pensoso insieme ti canterò di quelli che sono felici e di quelli che soffrono ti canterò del bene e del male che è intorno a te e ti rimane celato il piccolo cantore vola per ogni dove presso la capanna del povero pescatore e sul tetto del contadino e conosce tutti coloro che vivono lontani da te e dalla corte io amo il tuo cuore più della tua corona eppure anche la corona a carattere sacro verrò e canterò per te ma mi devi promettere una cosa tutto quello che vuoi disse l'imperatore e stava ritto nella sua veste imperiale che aveva indossata da solo e stringeva al cuore la pesante spada d'oro di una cosa ti prego non dire ad alcuno che hai un uccellino il quale ti tiene informato di tutto e a questo modo le cose andranno molto meglio e l'usignolo volò via i valletti entrarono per dare un'occhiata all'imperatore morto eh sì altro che morto l'imperatore era lì tranquillo e li salutava buongiorno ragazzi grazie a tutti